Salve a tutti e rieccoci qui dove vi racconterò un'altra delle mie avventure sulla scacchiera targata Grunfeld, partita Blitz 5 più 3, molto istruttiva soprattutto sui finali di Torre questi sono un po' gli ingredienti, tutti gli argomenti che andremo a trattare e che compongono poi la nostra partita Let's go! D4, dimentico, l'avversario aveva 2308, Blitz, sempre qui su l'icesso ovviamente cavallo F6, difesa indiana, cavallo in F3, questa è la seconda mossa più giocata dopo C4 solitamente per posizioni più elastiche, Fischer la definita solida ma più passiva G6, dove posso scegliere in futuro fra la Grunfeld o l'est indiana, il bianco spinge G4 allora qui arriva subito D5, non si fa tendere per essere poi nella Grunfeld vera e propria, come sappiamo, deve essere il cavallo in C3 non quello in F3, ma gli impianti poi rimangono sempre molto simili Ciprio D5, bianco cambia subito al centro, sulla falsariga della vera e propria variante di cambio cavallo che ricattura in D5, E4, ora non posso qui assomiglia un po' l'attacco a Nadanian, qui lo stesso il bianco li gioca a cavallo C3 per poi andare in A4 fatto sta che il nero non può liquidare tutto in C3 in effetti in questa posizione farebbe comodo qui al nero cambiare in C3 in modo da evitare di perdere tempi con il cavallo invece un po' in stile difesa Alekin trasloca subito in B6 cavallo C3, mosse di sviluppo, il bianco qui un approccio abbastanza aggressivo, energico con il centro occupato dai due pedoni alfiere in G7 e qui cosa dobbiamo fare? Martellare subito in D4 la struttura è ben diversa, quindi non abbiamo come nella variante di cambio B per C3, quindi il pedone come cambia la struttura quindi D4 non risulta inchiodato avendo il bianco sistemato subito sviluppato, meglio il cavallo in C3 alfiere in E3, comunque si deve preoccupare qua di rafforzare il centro difendendo D4, dal resto la Grunfeld è una difesa proprio contro D4 anzi alcuni l'hanno definita, non mi ricordo chi, maledizione come una vera e propria confutazione di D4 quasi per dimostrare che è scorretta così come la siciliana sembra confutare 1-4 ricordate queste piccole chicche a rocco corto alfiere in E2, anche il bianco vuole metterli al sicuro qui arriva alfiere G4, ero tentato comunque da C5 subito andando a cretarlo totalmente al centro, si proprio in questo in maniera così brutale alfiere in G4, mossa frequente nella Grunfeld a rocco corto e qui cavallo C6 mi espongo subito alla spinta in D5, dopo la quale potevo cambiare in F3 magari semplificando, sarebbe stato forse meglio, adesso non ho il motore ma alfiere per, qui vado subito a cambiare, alfiere caricatura, cavallo E5 o guadagno un tempo se lui gioca alfiere 2 o la copre gli alfieri quindi niente di male dove eravamo rimasti? D5 qui invece rispondo centralizzando subito il cavallo come ho detto, questo poi dà alla partita un'impronta molto più tattica perché il bianco prima prosegue con cavallo per E5 assolutamente prevista andando ad attaccare l'alfiere di scoperta per ben due volte l'unica mossa sensata è la naturale alfiere per E2 con un cambio alla pari, di pezzi leggeri lui però qua cosa fa? Non gioca a donna per E2 che mi aspettavo, anche una parità blitz quindi non voglio finire in zaito perché io esagero perdendo tempo calcolando lui invece che fa? Cavallo per F7 la migliore, mi ha veramente stupito qui ho detto chapeau cavallo per F7, guadagna un pedone questo pedone poi sarà molto importante anche più avanti nel finale ci arriveremo pian piano con le donne in presa quindi qua devo scegliere se giocare tore per F7 che però è una posizione molto passiva per il nero in seguito a dona per E2 oppure cambiare subito le donne dalla scacchiera fiere per D1, cavallo per, tore per G8 qui le complicazioni volgono al termine e prosegue con cavallo C4 questa è la mossa più tenace nel momento che il bianco si ritrova un po' più passivo perché vado ad attaccare l'alfiere ma il pedone in B2 quindi vincolandolo alla difesa del pedone in B2 qui segue alfiere per C3 è vero che è una scelta molto rischiosa non nel senso che il nero prende matto se ci mancherebbe ma studiando poi l'apertura questa alfiera ha sempre un valore molto alto cambiarlo in C3 l'unica mia motivazione qui era quella di distruggere completamente l'isola di pedoni e mirare con l'aiuto delle torri poi magari cambiare anche i pezzi leggeri e entrare in un finale ricordo che quando si studiano le aperture bisogna studiare anche i finali di quell'apertura cosa che non sempre viene fatta e qui invece si può come tipico della Grunfeld valorizzare la maggioranza dei pedoni sulla di donna c'è anche una partita che ho portato qualche giorno fa molto ossibile C6 andiamo subito ad attaccare il centro come è possibile? come osi mantenere ancora un centro così aggressivo? torna in D4 qui arriva C per D5 ho pensato per 5 secondi poi ho detto ma qui si io prendo difenderò il cavallo al tempo stesso E per D5 qual è il problema? ce ne siamo accorti nella lunga variante tattica che il bianco con cavallo per F7 è andato in vantaggio di un pedone e ora qui vedete come gli scacchi mi ha sempre e la difficoltà è quella analizzare le regole poi le eccezioni valutare una dettagliata casistica si spada spesso del sacrificio di un pedone per ottenere iniziativa a volte sacrifici anche di pezzi sacrificio di qualità però in molti altri casi invece bisogna difendere il pedone di vantaggio come si dice anche come dice il grande maestro Andrea Stella un pedone è un pedone quindi bisogna sempre valorizzare il materiale io credo nel materiale questa partita è l'esempio di credere nel materiale quindi difendere un pedone per esempio Corcinoia bravissimo nelle posizioni doveva difendere un vantaggio di materiale e qui per il nero la situazione diventa molto molto più complessa cavale in d6 d'altra parte è ovvio che chi si ritrova in svantaggio in posizioni di questo tipo deve cercare di complicare il gioco per far sbagliare l'avversario vediamo questa volta se il nostro eroe il terribile terribile ci è riuscito il terribile sono io e non Victor c4 torre in c8 andando subito ad attivare il pezzo ovvio che qui non mi aspetto di poter prendere tranquillamente in c4 lui procede con alfiere in a3 dove minaccia qui di prendere in e7 in caso di cattura immediata in c4 e allora torre f in d8 un po' a corto di idee qua bisogna studiare più l'avversario secondo me oltre che i nostri piani quindi basarsi su quelle che possono essere eventuali se ci saranno infatti eventuali sbavature con le imprecisioni ad ogni modo qua si rientra una volta per tutte in un finale di torre il bianco fa sentire la sua linfa vitale con la spinta in h4 l'altronde lui ha un pedone di vantaggio si trova proprio sul lato di re quindi dovrà esercitare un gioco molto più attivo torre in e8 cerchiamo subito di guardare con molto interesse alla settima traversa per sbarazzarmi dal pedone in a2 poi il pedone è passato spingere ma questo è un sogno infatti il bianco qui prosegue con torre in b1 andando ad attaccare il pedone b6 in difeso e b6 la spinta che avviene subito torre in b3 e dopo qui torre in quinta in cui non so se potevo magari andare in seconda fatto sta che il bianco può tenere un gioco molto più attivo da un momento all'altro dalla mia parte comunque c'era lo zeitnot lui aveva soltanto 29 secondi poi adesso non so quando ritaglierò il video per dittarlo se si vedrà io avevo 3 minuti mio avversario 29 secondi quindi cercavo di non badare troppo di creare mosse più fastidiose un po' in stile Lasker psicologia torre in a3 qua gioco a5 spinto dalla frenesia non fatelo a casa per quale motivo? perché lui poi con torre b3 va a premere sul pedone in b6 molto meglio sarebbe stata forse qualunque altra mossa in questo contesto meno la spinta a5 che porta la debolezza verso il pedone quasi contagiosa in b6 qui il bianco va a premere naturalmente non penso di giocare torre in b8 che significa sprecare una torre bisogna ragionare in termini quasi economici la torre vale troppo per obbligarla a difendere un pedone pertanto ho trovato una soluzione comunque discreta scacco re h2 forzata torre in c1 cambiare il pedone in b6 con quello c4 avversario i finali di torre sono sempre un argomento molto complesso torre per b6 torre 1 per c4 cambio cambio adesso si semplifica e purtroppo sarà ripetitivo il bianco mantiene sempre quel maledetto pedone in più re in g3 dove cerca adesso anche di centralizzare subito il re per fortuna che la torre controlla anzi fortuna merito mio quale fortuna la quarta traversa in modo che il re non possa centralizzarsi anche se i pedoni controllano le due case per puoi creare un pedone passato e farsi sentire h5 meglio subito controllare più case in modo che il re qui purtroppo la torre quello è il problema che non ho considerato fino in fondo la torre sarà sempre obbligata qui a controllare la casa f4 perché il re può entrare in g5 e lì ci sarà un banchetto molto pericoloso per me torre per d6 spazza via il pedone non potevo difendere in alcun modo crea un pedone passato che io non ho si mette male scacco re in h3 re in f7 cercando di accontentarmi ormai qui di mirare la patta tutti portano le vittorie ma nessuno che porti sconfitte o patte vediamo quale delle due è stato il mio risultato spinti in a4 ormai qui un po' a corto idea potevo giocare torre di 4 magari tornare indietro adesso non so quel maledetto motore come la penserà torre di 4 cercando poi di prendere in ostaggio il pedone passato in d5 che è il problema più urgente anche perché l'unica 2 di vantaggio in questo momento arriva a 3 reazione comunque forse non era il momento per il bianco di sprecare un tempo in questo modo torre in d4 e qui dopo torre in sesta nuovamente dobbiamo cambiare si può pensare a un cambio di pedoni come potete vedere qui ho segnalato questa linea proprio per ricordarmi e analizzarla dopo torre per d5 si crea lo stesso problema chiamato pedone passato e che cambia? niente meglio invece cercare di sbarazzarmi del pedone in a3 poi il re qui è molto più attivo voi direte ma anche il pedone di d5 qui è passato il problema è che il re è vicino anzi il problema per il bianco infatti scacco qui attacco doppio f3 para lo scacco e posso sgranocchiare in a3 re in g3 torre in terza non mi interessa qui il pedone in a4 ovviamente mi libero subito del pedone in d5 si può rientrare nel finale con un pedone in più sull'ala di re teorico che ha studiato Silman sa bene a che cosa mi riferisco d6 andiamo avanti subito e questo vantaggio da tempo ancora non spinge re ne 8 aiaiai qui sono stato graziato perché c'era re f4 re in g5 caput scacco suicida torre per d7 lui vuole subito adesso basare tutto sull'attività a est con due pedone di vantaggio torre in settima e qui dovevo mettere che lui mi ha sottovalutato ci prova con torre in g6 andava bene anche b6 forse di meno d6 comunque per controllare poi la casa di promozione accedendo alla ottava con la prima traversa a3 corsa tutta birra torre in a1 va a bloccarla e qui l'ideale sarebbe arrivare con re in b2 non è possibile perché qua c'è un esercito di pedoni assetati di promozione in ottava traversa come gli impiegati della ditta di fantozzi assetati della promozione nofamatti scegliete voi re f4 qui si va avanti con re in g6 posizione pari qui la partita va avanti da sola infatti la chiudiamo in poche mosse presa f per g4 coraggio ci vuole beh il re dovrà subito rientrare a casa in g8 per cui i pedoni sono veramente terribili re in d5 poi re f5 prendendo la posizione laterale re in d6 spinti in h5 e lui mi permette poi di rientrare commento abbastanza sintetico veloce con re in g8 qui dal punto di vista della tempistica il neo si salva g5 scacco in modo da qui tagliare fuori il re che deve inietreggiare per forza in quinta traversa re h7 controllando tutto e qui si cambiano i pedoni presa re in g5 arriva la patta la chiesta del mio avversario io ho dovuto accettare lascia l'ammare in bocca non di certo anche perché sono abituato poi alle sconfitte oltre che alle patte anche se per me la patta è sempre un po' una condanna visto che cerco sempre di giocare in maniera romantica questo è tutto comunque qualcuno magari si sarà disiscritto perché non hanno vinto e vabbè tutti siamo buoni a portare le vittorie mentre sappiamo che la sconfitta è sempre vicina e magari nel prossimo video arriverà like se comunque vi è piaciuta un caro saluto e alla prossima